la costituzione di una federazione di centrodestra va fatta subito non si può più aspettare lo afferma il leader della lega matteo salvini aggiungendo i cittadini si aspettano unità e concretezza anziché litigi e perdite di tempo ecco perché il centrodestra di governo federato sarebbe una soluzione per aiutare draghi soprattutto in vista delle prossime riforme fermo restando che la mia è una proposta e non un'imposizione a